È polemica sui permessi di ricerca petrolifera nella mare Ionio concessi dal governo. I NoTRIV accusano l'esecutivo di smentire se stesso, visto che proprio i 5 Stelle si sono dichiarati in più occasioni contrarie a nuove estrazioni di idrocarburi. Il ministro Di Maio, dopo le dichiarazioni sull'argomento rilasciate durante la sua visita in Abruzzo, ha anche pubblicato alcuni post su Facebook. Mi si accusa di aver autorizzato Trivelle nella mare Ionio, scrive Di Maio. È una bugia. Queste ricerche di idrocarburi, che non sono trivellazioni, erano state autorizzate dal governo precedente, in particolare dal ministro dell'Ambiente Galletti. A dicembre un funzionario del mio ministero ha semplicemente sancito quello che aveva deciso il vecchio governo. Siamo e resteremo contro le Trivelle. Pronta la replica dei NoTRIV con Enzo Di Salvatore, professore di diritto costituzionale e cofondatore del coordinamento nazionale contro le Trivelle. Noi stiamo parlando di tre permessi di ricerca rilasciati ora, pubblicati sul bulletin ufficiale degli idrocarburi del 31 dicembre scorso, una concessione in provincia di Ravenna per estrarre e la proroga di una concessione già esistente. Poteva fare qualcosa questo governo? Allora, qui bisogna distinguere il piano politico da quello amministrativo, perché è chiaro che stiamo parlando di procedimenti avviati da molto tempo. Normalmente i governi passano, magari il procedimento resta. Il responsabile del procedimento è un dirigente amministrativo, il quale ha potere di firma. Però questa firma, se rilascia un provvedimento finale o rifiuto di questa firma e quindi rigetto, è legato ovviamente a quello che gli prescrive la legge. Quindi il problema è a monte ed è politico. Occorre modificare semmai la legge e quando i procedimenti sono ancora in corso è possibile sospenderli. E noi abbiamo un precedente che è quello del governo Berlusconi, quando nel 2010, a seguito del disastro del Golfo del Messico, decise di sospendere tutti i procedimenti in corso per il rilascio di titoli ricadenti entro le 12 miglia marine. E' eletto da dichiarazione di Di Maio, di Costa, di Crippa, che è il sottosegretario di sviluppo economico, che in realtà avrebbero avviato l'iter per il rigetto di almeno 40 richieste. E allora la domanda è perché è possibile rigettare 40 richieste e non è stato possibile rigettare queste 5, quindi 43 più 2. E' stato convocato un tavolo per il 14 gennaio prossimo a Bari dal Presidente della Regione Emiliano e l'invito è rivolto a tutte le regioni.